Benvenuti nel mondo degli orologi Swiss Militari. Swiss Militari è un marchio svizzero di orologi di lusso, fondato nel 1963, originariamente concepito come fornitore di orologi di precisione per le forze armate svizzere. Oggi, Swiss Militari è un marchio noto in tutto il mondo per la produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati da design eleganti, funzionalità avanzate e una grande attenzione ai dettagli. La collezione di orologi Swiss Militari offre una vasta gamma di modelli per uomo e donna, che combinano l'estetica elegante con la funzionalità avanzata. Gli orologi Swiss Militari sono realizzati utilizzando materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, il titanio e il vetro zaffiro, per garantire la massima resistenza e durata. La scelta dei materiali giusti è fondamentale per garantire la qualità e la precisione degli orologi Swiss Militari. Swiss Militari è conosciuto anche per la produzione di orologi con funzionalità avanzate, come la cronometrazione, la data, la visualizzazione del fuso orario e molte altre. Inoltre, Swiss Militari ha creato una serie di orologi smartwatch, chiamati Swiss Militari smartwatch, che offrono funzionalità avanzate come il monitoraggio dell'attività fisica e la connettività Bluetooth. Questi orologi rappresentano l'evoluzione del marchio, che si è adattato alle nuove tecnologie e alle esigenze dei clienti moderni. Swiss Militari ha inoltre collaborato con importanti organizzazioni e gruppi sportivi, tra cui il Comitato Olimpico Internazionale e la Federazione Internazionale di Sci, per creare orologi di edizione limitata che celebrano eventi importanti e atleti di fama mondiale. Queste collaborazioni rappresentano la passione del marchio per lo sport e la sua attenzione alla cultura.